Musica Oggi affronteremo il problema delle apparizioni mariane perché fanno parte della nostra cultura sostanzialmente e la Beata Vergine Maria, Bless Virgin Mary, come dicono gli americani non è un'automobile, BVM rappresentano comunque qualcosa che è legata al nostro passato Che rapporto c'è tra l'uomo e il Dio? È un rapporto di fiducia? È un rapporto di... esiste e quindi ce lo pupiamo? È un rapporto di inchiesta, cioè andiamo a vedere come è fatto Dio perché in fondo noi, esseri umani, cerchiamo sempre chi chi siamo veramente noi e poi alla fine di questo discorso si potrebbe scoprire alla fine anche di questo ciclo di conferenze si potrebbe scoprire che noi siamo Dio come ho scritto in un libro recente e che sostanzialmente quello che crediamo essere il Dio che viene dall'esterno in realtà è un'immagine speculare di noi che non ci siamo ancora riconosciuti in questa cosa è chiaro che dietro questa fenomenologia i fenomeni BVM c'è una profonda ignoranza delle persone che non avendo studiato questo fenomeno credono che sia un'altra cosa allora come nel caso del problema alieno gli alieni sono stati considerati per centinaia di migliaia di anni i nostri dei ora scopriamo che sono dei tecnologici perché hanno l'astronave, il raggio della morte tutte queste stranezze qua ma in realtà molte culture antiche hanno forse confuso la figura di dei visti da un punto di vista religiosistico con invece alieni che venivano da un altro pianeta ce lo dobbiamo chiedere questo e infatti la prima slide ti fa capire subito dove si casca cioè vedete cosa hanno a che fare le apparizioni mariane con la fede cattolica cioè c'è qualcosa oppure no oppure sono per esempio problematiche dovute allo psichismo di alcuni soggetti che credono di aver avuto delle locuzioni con la Beata Vergine Maria e invece se erano semplicemente schizoparanoidi ce lo possiamo chiedere sono visioni quindi dovute per esempio all'accadimento di cose tecnologiche c'è qualcuno dietro che muove dei pulsanti per far apparire qualcosa che è solamente una visione tecnologica oppure c'è anche l'aspetto alienologico dietro per cui la Beata Vergine Maria in realtà o i santi o Dio o Gesù che compare in realtà sarebbero state ma misinterpretazioni di un fenomeno completamente diverso e andiamo a vedere bisogna partire dai tempi antichi 1531 la Beata Vergine di Guadalupe facciamo prima un escursus temporale in questo escursus temporale la prima e importante apparizione della Madonna è stata proprio a Guadalupe siamo vicino a città del Messico la tilma della Morenita si parla sempre di questo perché la Madonna che compariva è Morenita cioè non è di pelle bianca e capiremo fra qualche slide che la Madonna vuole in qualche modo presentarsi come tu credi che ella debba essere e questa è una cosa molto strana su cui però dobbiamo fare riferimento perché si parla della tilma cioè del mantello perché il buon peones che poi è stato fatto santo e che ha visto per la prima volta la Beata Vergine Maria si ritrova un bel giorno davanti al vescovo di Guadalupe che è in realtà di città del Messico che c'era una manifestazione religiosa lui va lì e voleva parlare con il vescovo il vescovo non vuole parlare con lui a un certo punto succede qualcosa succede un miracolo e questo mantello che quest'uomo aveva addosso sostanzialmente si colora di un disegno molto particolare il disegno della Via Lattea con tutte le stelline che poi sono state studiate da chi ha studiato la fenomenologia fatte in modo tale che il tessuto non è stato dipinto dopo essere stato cuscito ma c'erano praticamente in tre dimensioni la fotografia di tutte le stelle della Via Lattea una cosa che noi non saremo neanche in grado di immaginarci vedete a seconda della grandezza della lunghezza di questi segni del colore di questi segni si può comprendere come in questa mappa che è una mappa che arriva fino e non all'età moderna fino a un certo momento che siamo qui nel 1750 e passa ognuno di questi trattini fa vedere a secondo del colore che ha della grandezza della lunghezza quanto il fenomeno è durato quante apparizioni ci sono state se ci sono stati dei processi di beatificazione se la Chiesa ha voluto applaudire a questa cosa oppure gli è andata contro e così via la cosa interessante viene dopo cioè quando a un certo punto le apparizioni della Beata Vergine Maria aumentano in modo esponenziale sono anni molto particolari sono per esempio il 1954 vedete c'è un picco elevatissimo il 1984 e 86 questi due picchi corrispondono ai due momenti nella storia moderna in cui sono stati visti più oggetti volanti non identificati infatti mettendo sopra questo grafico il grafico delle apparizioni di oggetti volanti non identificati che io ho stretto e allargato in modo tale da far tornare gli assi ovviamente si vede come sostanzialmente proprio nei periodi in cui l'apparizione mariana aumentano aumentano anche le visioni di UFO fino a un certo punto fino agli anni 2000 dopodiché le apparizioni mariane cadono quasi a zero e gli UFO salgono c'è un motivo per cui questa cosa accade e il motivo c'è sicuramente bisogna tenerlo presente perché perché sia il Vaticano da una parte per quanto riguarda le apparizioni mariane sia la CIA americana Central Intelligence Agency per quanto riguarda le apparizioni degli UFO non hanno nessuna voglia di parlare di queste cose ma mentre le apparizioni mariane sono un fenomeno personale e mano a mano che si va avanti nel tempo i soggetti hanno paura di parlare di dire in giro ho visto la Madonna e se ritengono per sé queste informazioni l'evento della tecnologia dei telefonini e di tutte le macchine super fotografiche eccetera eccetera hanno dato una spinta che ha esaltato quello che era il grafico che noi vedevamo quindi da un certo punto di vista un primo aspetto di similitudine ce l'abbiamo proprio nei grafici da una parte il Vaticano non ha nessuna voglia di parlare di Beata Vergine Maria e cercherà quando può di denigrare il fenomeno di dire che non esiste almeno in quel contesto che stanno esaminando in quel momento a meno che il fenomeno non si riproduca più e le veggenti che vedremo sono per l'85% femmine non sono morte se il fenomeno è ancora in evoluzione la Chiesa nega sempre tutto e si capisce fondamentalmente perché perché domani mattina magari un'apparizione mariana che potrebbe essere quella della Chiesa di Meggiugori che è da anni che c'è c'è stata continua eccetera eccetera sostanzialmente una delle veggenti si sveglia e dice non è vero mi sono sbagliato era il diavolo che appariva la Chiesa ci rimane male se invece sono tutti morti allora va bene la Chiesa può optare per la realtà ipotetica del fenomeno quindi non si vuole sputtanare sostanzialmente si potrebbe dire così la CIA lo stesso perché il Central Intelligence Agency ed infatti il Vaticano un po' si trasforma in questo non vuole mettere in piazza che cosa sono gli oggetti volanti non identificati che chiama WAP che sembra una parola napoletana o WAP cioè invece vuol dire un'altra cosa mentre prima gli UFO erano oggetti non identificati WAP dice sempre unidentified ma fenomena cioè siamo tornati indietro mentre prima si sapeva che almeno erano oggetti ora non si sa neanche quello quindi in realtà non c'è stata una evoluzione dell'informazione ma c'è stata una involuzione dell'informazione le mappe abbiamo visto cosa succede nel tempo guardiamo cosa succede nello spazio questi fenomeni mariani come potete vedere accadono un po' in tutte le parti del mondo queste cartine che io vi propongo sono state fatte per esempio dal National Geographic dalla cartografia di Topolino oppure da Google Map che ha costruito un database come si faceva una volta sulla apparizione degli oggetti volanti non identificati non cambia nulla e quindi che cosa si vede da questa prima visione delle cose che il fenomeno mariano è sostanzialmente europeo ci sono alcuni altri posti molto importanti dove la cosa accade ma noi possiamo trarre già una piccola conclusione la Beata Vergine Maria appare dove essa viene conosciuta se apparisse la Beata Vergine Maria in Giappone nessuno se la filerebbe e quindi in Giappone magari appare qualcos'altro non a caso in India appare il Dio Scimmia a Grosseto piange la statua della Madonna e in India piange la statua del Dio Scimmia ma non sarà che il Dio Scimmia e la Madonna sono la stessa cosa cioè hanno una matrice comune a monte e che comunque però per problemi di natura culturale non è che il Dio Scimmia può apparire in Italia perché non sarebbe neanche riconosciuto questo cosa vuol dire se le due fenomenologie sono identiche in tutte le parti del mondo potrebbe apparire lo stesso tipo di fenomenologia con matrici diverse questo cosa vorrebbe dire vorrebbe dire che la Beata Vergine Maria o quello che c'è dietro ha una necessità essere riconosciuta essere approvata guardate ci sono tanti testi che parlano di apparizioni mariane soprattutto scritte da religiosi come in questo caso però se uno vuole approfondire in questa cosa che io non vi leggo ma vi dico a parole ma che ho dovuto scrivere perché così chi rivedrà lo slide potrà con calma farsi tutte le sue elugubrazioni si capisce una cosa fondamentale queste carte hanno un sacco di dati dentro a secondo che siano pitturati le diverse apparizioni della Beata Vergine Maria con pallini bianchi rossi verdi gialli con stanghette con il numero di crocettine ecco che appare il numero di quante volte la Beata Vergine Maria è apparsa in quel luogo se la Chiesa ha dato il suo imprimatur se il soggetto che ha visto queste cose o i soggetti è diventato santo e così via e così ecco che la mappa di Google si fa sempre più complicata questa è una delle ultime questa roba questa ricerca qui risale al 2021 questa roba qui quindi è roba recente che cosa si nota? un colpo d'occhio generale si nota che la Madonna appare sulle coste beh gli piace il mare perché ma ci sono delle ipotesi vedete anche compare anche in India se volete in alcune in Cina però in quei punti dove ci sono delle comunità cristiane che possono in qualche modo capire che cosa sta succedendo benissimo in realtà nel mondo le coste sono quelle che sono più abitate perché nei deserti o negli interni ci sono popolazioni che però sostanzialmente non hanno la cultura del cristianesimo perché il cristianesimo dove è arrivato? è arrivato negli Stati Uniti d'America oppure nell'America del Sud attraverso chi ce la porta? i gesuiti che ci andavano con la barchetta i gesuiti poi non è che a volte lo facevano si facevano tutta l'Amazzonia andavano a rompere le scatole anche a questi poveri disgraziati che senza di loro stavano benissimo lo stesso ma sostanzialmente le grandi civiltà e le colonie della vecchia Europa erano sulle coste quindi questo potrebbe essere un fenomeno di natura culturale e poi abbiamo quel riquadro lì in alto quella è l'Europa che cosa succede in Europa? guardiamo la cartina e vediamo che in Europa c'è pieno perché noi abbiamo la cultura che è una cultura cattolica una cultura cristiana quindi siamo in grado di riconoscere questo fenomeno e proprio perché lo riconosciamo e ne abbiamo più consapevolezza ci metto un bel punto interrogativo ecco che la Beata Vergine ha bisogno di manifestarsi qui bisogna tenere presente che e questa vedete è l'iconografia della tilma della Morenita cioè della Madonna di Guadalupe alcuni hanno studiato anche questa immagine e hanno visto che all'interno dell'occhio dell'immagine che è un'immagine un dipinto dentro ci sarebbero sarebbero comparsi a specchio tutte le persone che c'erano nella sala dove il vescovo di città del Messico in quell'istante stava per come dire assistere al miracolo del disegno della tilma di questa Morenita la Madonna ha un'esigenza quando è americana America del Sud appare come Morenita quando è in Jugoslavia è bruna con gli occhi azzurri quando appare in Africa è nera di pelle che strano la Madonna quando appare ha bisogno di essere creduta tale e quindi modifica il suo aspetto perché chi la vede la riconosca punto interrogativo oppure la Madonna che appare è un fenomeno psichico e quindi non c'è nessuna Madonna che appare ma c'è un'esigenza del soggetto che è psichicamente malato e quindi è il soggetto che dà a quello che noi stiamo vedendo l'immagine l'idea di come essa dovesse essere ma in realtà non è così perché non c'è in realtà niente da vedere punto interrogativo perché l'apparizione della Beata Vergine Maria è per l'85% di femmine l'85% di persone che vedono la Beata Vergine Maria sono donne cioè è così ci dobbiamo chiedere perché è una domanda lecita ed è lecito anche andare a vedere il resto l'altro 20% di maschi che storicamente dicono di aver avuto una fania mariana che caratteristiche hanno da un punto di vista sessuale noi ce lo siamo chiesti e abbiamo scoperto che questi soggetti hanno una sessualità incerta cioè sono molto più femmine che non maschi anche se sulla carta di identità c'è scritto M hanno delle tendenze cioè omosessuali è interessante questa cosa e qui abbiamo una prima osservazione da fare questa è qualcosa che appare anche quando noi studiamo i fenomeni di adduzione aliena l'alieno è interessato al femminile non è interessato al maschile se non nell'ottica in cui nel maschile c'è quella parte femminile che a lui interessa guarda che strano perché questi due fenomeni hanno ancora un altro punto in comune che non è molto banale ma sul quale punto in comune i ricercatori non si sono mai soffermati invece io che sono rompipalle vado a vedere queste cose chi vede la beata vergine maria è sostanzialmente qualcuno che non ha un grandissimo grado culturale un po' perché vive in mezzo ai monti meggiugori vuol dire in mezzo ai monti sostanzialmente è un posto dove ora c'è una cittadina abbastanza fiorente dove ci sono case ma quando è cominciata la fenomenologia dell'apparizione della beata vergine a meggiugori c'era solo una cosa che poi ve la faccio vedere che è un grattacielo che è una chiesa c'è solo in mezzo ai monti una chiesa e quattro capanne così Fatima Fatima cova di Hiria che vorrebbe dire valle avallamento di Hiria ci sono pecore e questi tre ragazzini che passavano di lì poveraci senza una grande cultura i pastorelli di Fatima avevano una cultura zero la principale veggente aveva la terza elementare sostanzialmente però vedete l'inizio dell'inganno questo non so se vuol dire che noi stessi ci inganniamo oppure è il fenomeno della beata vergine che vuole ingannare noi sta di fatto che nelle diverse parti del mondo è divertente questo trovate a questo sito diversi quadri e diverse rappresentazioni di come la beata vergine maria che si presenta al di fuori dell'italia al di fuori dell'europa viene rappresentata dall'india al pakistan al guardate ci sono delle cose incredibili si riconosce chiaramente il tratto indiano il tratto africano il tratto nord europeo oppure guardate questi è roba dell'america del sud no vedete sono cose veramente incredibili cinese giapponese ognuno mette la propria capacità iconografica di descrivere questa cosa che sta vedendo ci mette l'asso di picche sopra cioè la propria cultura sostanzialmente e questo non solo nello spazio ma anche nel tempo certo la dea ishtar astarte astarotte c'è sempre il capo della flotta spaziale dei contattisti che si chiama ashtar seran capite c'è qualche cosa che unisce in qualche modo queste due fenomenologie la vedete qui ishtar nell'allattamento del bimbetto che è orus che sarebbe il gesù dove gesù aveva 12 apostoli orus aveva 12 costellazioni e qui si potrebbe aprire un discorso che ci porterebbe però molto lontano la dea innanna cioè che è astarte poi che è questa vi faccio vedere due cose che è la mamma degli dei quindi quando noi andiamo in chiesa e facciamo una preghiera alla madonna non ci stiamo accorgendo che stiamo pregando la dea Kali ve lo faccio vedere fra un attimo guarda che piedini c'ha lo so che non ci avevate fatto caso però io ve lo faccio vedere poi fate voi e c'ha le ali le ali perché sostanzialmente viene vola viene da fuori oppure perché queste ali hanno una caratteristica fondamentale guardate qui c'è una statua di 4 metri che mi ha mandato Caruso Colsi da Phuket è la statua della dea che è sostanzialmente la dea che a Phuket siamo in Talandia adorano e noi la vedremo come la Beata Vergine Maria guardate che ci sono un sacco di particolari guardate il cappello il copricapo c'è sempre un copricapo molto strano e vedrete che questo copricapo molto strano che noi non abbiamo ancora capito che cos'è in realtà si vede proprio nelle fotografie della Madonna perché la Madonna è stata fotografata poi ve la faccio vedere le fotografie della Madonna e sulle ali ne possiamo parlare perché queste ali hanno un significato non sono state messe lì a caso cominciamo a dare un'occhiata a questi poveri ragazzi che sono i tre pastorelli di Fatima 1917 siamo a un anno da quella che sarà la fine della prima guerra mondiale questi poveri disgraziati che facevano i pastorelli e che avevano dai 10 ai 7 anni si trovano a vedere il 13 maggio del 1917 e per i prossimi sei mesi ogni 13 di ogni mese a vedere questa entità che scende che parla con loro in realtà le cose questo la storia dice questo ma in realtà le cose non sono andate proprio così perché poi ci sono dei ricercatori che hanno scoperto delle diversità dai racconti ufficiali innanzitutto c'è un'altra veggente di cui poi vi dirò dove trovare le informazioni la quale ora credo ovviamente che sia morta ha visto tutto quello che la buona Lucia Dos Santos descrive nel contesto della prima apparizione in secondo luogo la prima apparizione non è la prima apparizione ma sarebbe la seconda perché la prima apparizione fu quella dell'angelo annunciatore l'angelo annunciatore era questa cosa di luce che arriva ogni tanto ma anche a Medjugorje c'è stata la prima apparizione di un angelo annunciatore di cui però le cronache non parlano o comunque si sorvola tanto è vero che mi sembra che proprio Lucia nelle sue memorie dice quando appare l'angelo non mi vorrei sbagliare se Lucia di Fatima o Vicca di Medjugorje che dice quando appare l'angelo è diverso perché l'angelo ti spossa ti distrugge ti senti distrutto dopo questa apparizione invece la Madonna ti dà forza tranquillità eccetera eccetera quindi si potrebbe trattare di due fenomeni completamente diversi alcune suore di clausura che vedevano la beata Vergine Maria comparire all'interno del loro monastero di notte quando non c'era nessuno bene quando compare la Madonna la Madonna è splendente è splendente ma non fa ombra per terra è l'angelo luminoso che mentre quando passa attraverso il corridoio del convento lascia la scia di luce e fa le ombre con gli oggetti che vengono colpiti dalla luce quindi sembra che l'angelo sia qualcosa che è esterno al sistema spazio-temporale mentre la beata Vergine Maria non appare all'esterno ma è qualcosa che assomiglia a una proiezione interna causata dal da chi muove le fila di questo meccanismo la Madonna appare per la prima volta ma è qualcosa di molto particolare cioè lo vedremo poi nel disegnino che fanno i ricercatori che hanno studiato questo caso appare su una specie di olmo su un alberello piccolo in realtà sembra una ragazza di un metro e sessanta d'altezza vestita in un certo modo che dice ai ragazzi io sono si presenterà poi come la beata Vergine Maria in quella che è la prima visione che poi abbiamo visto è la seconda succederà che i pastorelli scappano perché hanno paura questo succederà anche a Meggiugori quindi ci sono delle fenomenologie identiche tra questi due ma non solo questi due eventi invece il 13 ottobre del 1917 che è l'ultima volta che sostanzialmente appare ai tre pastorelli questa cosa ci sono 250.000 persone che aspettano che appaia perché perché la Madonna usa una tecnica particolare cioè si fa reclam e come si fa a farsi reclam dice guardate che io verrò per i prossimi sei mesi qui tutti i giorni alle 5 la prima volta ci sono tre pastorelli la seconda volta ci sono i parenti dei pastorelli la terza volta c'è tutto il paese la quarta volta c'è tutta la nazione e la quinta volta c'è tutto il mondo perché chiaramente la Madonna fa questo per portare la gente a vedere quello che sarà lo spettacolo finale pirotecnico finale però l'ultima volta che per esempio a Fatima succede questo il Vaticano che muove le chiappe porta sul posto i suoi esperti che hanno anche una delle prime macchine fotografiche dell'epoca e fanno delle fotografie ve lo dico subito oh guarda che meraviglia ci sono migliaia di persone veramente che guardano tutte in una direzione ci sono molte di queste fotografie che sono state pubblicate dagli esperti che erano esperti del Vaticano che ce n'è uno in particolare di cui non ricordo assolutamente il nome ma che io ho citato nel primo libro che ho scritto su questo argomento che si intitola proprio fenomeno BVM e anche in un lungo articolo che ho scritto sul sito coradomalanghexperience.com l'esperto del Vaticano dice i tre pastorelli avevano visto la Beata Vergine Maria che noi ovviamente non avevamo potuto vedere e a noi ci è stato dato solo la grazia di vedere il mezzo con cui la Madonna era scesa sulla terra perché il mezzo con cui la Madonna era scesa sulla terra era una specie di palla infuocata che ha fatto un paio di passaggi sulla folla pioveva quel giorno e avevano tutti i vestiti bagnati e i testimoni che sono centinaia di migliaia hanno detto che gli si sono asciugati i vestiti quando questa sole rotante che poi vedremo non è un sole rotante è passato un paio di volte facendo bella mostra di sé e voi vi chiederete questa è una foto questa è un'altra foto sempre in quel momento tutti stanno a guardare il fenomeno del sole rotante che è il miracolo e te ti chiedi ma come mai l'inviato del Vaticano fotografa la folla e non fotografa il sole rotante nessuna fotografia di quel tipo è apparsa in giro tranne una che non si sa da che parte viene e che probabilmente è stata fotografata da un'altra zona che in qualche modo cerca di fotografare quello che era il fenomeno del sole rotante però il diavolo fa le pentole e non i coperchi come al solito e vedremo che le cose non stanno come vengono raccontate cioè non ce la raccontano tutta guardate qui ci sono due autori che hanno scritto Joachim Fernandez e l'altro che è Fina d'Armada questo testo in portoghese ora qui si vede solo la parte chiara la parte scura non si legge intervenzao extraterrestre è in Fatima intervento extraterrestre in Fatima cosa vorrà dire e se voi vi leggete questo libro che non potete comprare in Italia perché il Vaticano non ha mai voluto accettare la traduzione sul territorio italiano evidentemente avrà avuto le sue ragioni però sapete chi ha qualcosa da nascondere a me sempre cioè qualcosa di sospetto mi torna poco ma in questo contesto in questo libro è proprio dove si scopre che loro fanno i due autori del libro una ricerca approfondita scoprono che c'è stato un terzo scusate un quarto testimone scoprono che c'è stato un altro avvistamento scoprono un sacco di cose e tra le cose che scoprono scoprono che la Beata Vergine Maria descritta da Lucia e dagli altri due ragazzi assomiglia molto come vestimenti a una serie di avvistamenti ufologici che facevano vedere l'alieno che passava di lì l'alieno che passava di lì aveva nella mano destra una sfera luminosa che emetteva dei raggi mentre la Madonna all'inizio aveva un rosario poi il cuore di Gesù trafitto dalle spade che sono i peccati dell'umanità e dici porca puttana sembrano proprio quasi uguali saranno fratelle e sorella e nella ricostruzione la strana nuvoletta da cui scendevano dei raggi e producevano questa nebbiolina che poi si tramutava in figura della Beata Vergine Maria sotto c'erano i pastorelli che guardavano tutti verso l'alto una caratteristica delle apparizioni mariane è che la Madonna non tappare mai lì tappare sempre a due metri d'altezza un potrebbe scendere lì è strano possiamo chiederci perché e qui è chiaro che viene spontaneo farsi delle domande e le domande sono ma allora anche tutti coloro che vedono gli alieni e che li descrivono in qualche modo soffrono dello stesso problema dei veggenti i cosiddetti addotti e veggenti cioè anche loro hanno visto questa cosa ma né gli addotti né i veggenti hanno in realtà riportato con chiarezza quello che vedevano ma hanno alterato attraverso la loro corteccia cerebrale l'immagine di quello che stavano vedendo percependo qualcosa ma che è stata ripitturata in qualche modo dal cervello e dalla cultura delle persone dentro al problema sono domande che ci possiamo porre il sole rotante ragazzi il sole non ruota perché se ruota te non te ne accorgi perché perché è una sfera voi prendete una pallina di acciaio sai quelle biglie che servono per fare come si chiama le le si le 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 italposte Hollywood palline a specchio praticamente te la prendi e la fai girare sul suo asse te non ti rendi assolutamente conto che la pallina sta girando perché la simmetria la geometria dell'oggetto che gira sul proprio asse non ti permette di avere questa informazione quindi che cavolo voleva dire il sole rotante e i due ricercatori che hanno scritto intervistare il extraterrestre in Fatima dicono che ci sono otto fasi la prima fase è questa qui in alto c'è una nuvola a cui stava per smettere di piovere a un certo punto smette di piovere ed esce da una nuvola il sole il sole comincia a ruotare sul suo asse evidentemente non è così ha dato l'impressione che succedesse qualcosa del genere alla popolazione che stava lì poi smette di ruotare ricomincia a ruotare un'altra volta smette di ruotare comincia a saltarellare di qua e di là come fanno gli UFO gli oggetti volanti non identificati che si muovono con accelerazione infinita facendo degli spigoli proprio nella loro rotta poi si ingrandisce o diventa così vicino da darti l'idea che diventa grande e poi alla fine rientra nella nuvoletta che strana questa cosa questo è veramente quello che è successo? questa è la fotografia di qualcuno che ha fotografato e ha in qualche modo visto che c'era qualcosa che è qui che probabilmente è il sole qualcosa che è qui che non si vede bene ma ve lo faccio vedere con una trasformazione al computer ecco qua si vede meglio vedete questo coso e quest'altro coso uno è subito sopra in alto sopra le nuvole e l'altro entra e esce dalle nuvole qui tecnicamente non si vede niente ma c'è la popolazione di gente che guarda in alto bene guardate che questa fotografia sicuramente sarà falsa non si sa niente di questa foto compare a un certo punto ma bisogna dire che forse è vera perché? perché questa rivista scientifica che è Scienzia e Fides nel 2021 guardate che questa è una rivista dell'università vaticanense quindi è un come si dice una pubblicazione ufficiale del Vaticano ci sono questi autori che dicono che analizzano le fotografie di Fatima e dalle fotografie di Fatima che due di quelle le abbiamo viste prima loro riescono a vedere andate a vedere il lavoro perché è fatto benissimo che ci sono due fonti luminose precise di diversa intensità che illuminano i vestiti delle persone tutto un discorso fatto col computer ovviamente quindi tecnicamente a Fatima non c'era il sole rotante c'era il sole che stava lì e poi qualcos'altro che sompava pizza a pizzo come dirà poi Vincenzo Fullone in una cittadina sperduta della Calabria Crozia perché anche il fenomeno si riprodurrà anche in Italia di notte ma a quello ci arriveremo allora cosa è accaduto dopo il 1917 innanzitutto io vi devo dire un'altra cosa in realtà i tre pastorelli non sono stati tre testimoni uguali perché Lucia vede e parla e sente e ascolta la Madonna la cuginetta vede solo una forma luminosa non ben chiara e non sente assolutamente niente il ragazzino di sette anni non sente e non vede una mazza di nulla e chiede sempre a Lucia perché non gli hai chiesto questo alla Madonna come era vestita perché non gli hai fatto quest'altra domanda cioè è un ragazzino che ha la caratteristica di essere imprudente la Madonna come vedremo ancora fra un attimo non ha voglia di essere inchiestata non ha voglia di rispondere alle tue domande addirittura risponde male perché mi ricordo in una delle ultime parizioni o l'ultima o la penultima e Lucia porta un messaggio alla Madonna e dice alla Madonna scusa già che ci sei perché non potresti salvare la nostra amica del villaggio che si sente male che ha una malattia tremenda e poverina eccetera allora era già la seconda volta che Lucia chiedeva una cosa del genere per una persona la prima volta in un'apparizione precedente la Madonna risponde anche in modo sgarbato si la guarirò ma non ora non c'ho tempo nella seconda volta che viene posta la domanda la Madonna è ancora più incazzata dice che non guarirà non gliene frega niente ma certo avrà i suoi motivi però questo è quello che racconta la Madonna o meglio che racconta la veggente Lucia nei suoi ricordi quindi quello che succede è che l'unica veggente che rimane per molto tempo è Lucia perché gli altri due due anni dopo muoiono e c'è una una mandata di peste e lì sapete non è come il covid quella è quella vera cioè ti fa fuori e lì non c'erano i mezzi e quindi questi due pastorelli vengono assunti dalla Madonna in cielo rapidamente eh sì almeno qualcuno oggi non viene assunto nessuno in Italia almeno in cielo qualcuno l'assume c'è sempre questa speranza la Madonna la Madonna dà a Lucia il famoso terzo segreto di Fatima allora questo terzo segreto di Fatima di cui si parlerà fra un attimo è qualcosa che la Chiesa non ha mai in realtà dato alla popolazione anche se dice che ce lo ha dato ma Lucia in realtà scrive al cardinale Ratzinger una lettera che analizzeremo e dentro questa lettera c'è il racconto che Lucia fa e la visione del terzo segreto Ratzinger poi manderà tutto ai suoi superiori al Papa che era il Papa Polacco a quei tempi e se ne dedurrà che il terzo segreto di Fatima conteneva il messaggio per cui Voitila sarebbe stato avrebbe avrebbe subito un attentato che l'avrebbe dovuto uccidere però c'è un problema siccome io mi fido poco allora ho preso le lettere di Lucia tutte della sua vita e le ho analizzate grafologicamente parlando eh lo so allora parliamone innanzitutto non sono stato l'unico che ha fatto questa cosa poi io non sono neanche un esperto quindi io mi sono accostato a un professore dell'università di Roma del corso di laurea in grafologia corso di laurea di tre anni che insegnava a quei tempi anche a Pesaro e Urbino gli ho portato la mia visione grafologica della lettera di Lucia e lui ha detto che era d'accordo con me però mi ha detto non mi citare perché se no vado nel casino poi soprattutto in una città lo insegna come Roma Roma è vicino al Vaticano magari qualcuno si sarebbe potuto indispettire cosa c'è scritta a guardare questa è la lettera guardatela com'è fatta bene poi ne parliamo di questa lettera intanto guardiamo il contenuto mentre Lucia sta scrivendo descrivendo tutto quello che succede a un certo punto dice ed è comparso un angelo un angelo che stava da una certa parte aveva la spada fiammeggiante in mano come tutti gli angeli c'erano la spada fiammeggiante e a un certo punto questi raggi luminosi della spada fiammeggiante però terminavano non facevano del male non distruggevano la signora che era la beata vergine che compariva a lato e nel frattempo l'angelo diceva penitenza 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 loro sentivano questo parlare a meno Lucia solo poi sostanzialmente e a un certo punto si è aperto uno schermo rettangolare che Lucia descrive come uno specchio quando te ci passi davanti che vedi delle immagini e in questo schermo rettangolare Lucia vede un vescovo vestito di bianco che lei ha detto sicuramente il papa ma anche no il quale camminava sulle rovine della chiesa di Roma e si avvicinava a un certo monte dove c'era sopra una certa croce che sembrava fatta di sughero poi sostanzialmente e a un certo punto arriva lì seguito da tutti i preti della chiesa i maggiori importanti personaggi della chiesa e quando lui arriva lì ecco che compaiono dei militari e cominciano a sparare a questo vestito di bianco gli sparano un bel po' di colpi e siccome non bastava gli tirano anche delle frecce questo crepa e i militari nello schermo televisivo che c'è mostrano la scena che va avanti e loro che ammazzano tutti i preti che sono lì presenti in questo bagno di sangue della madonna si potrebbe dire veramente così ci sono due angeli che hanno due annaffiatoi di cristallo comunque trasparenti che raccolgono tutto il sangue dei martiri perché questi vengono identificati come martiri non sono martiri è gente che col martirio non ha niente a che fare sono stati ammazzati da da militari che passavano di lì non si capisce che martirio ci sia e questo sangue viene in qualche modo versato su quelle che sono le anime le anime che si avvicinano a Dio perché nel frattempo era comparso sempre in questo schermo luminoso una luce gigantina che dice è sicuramente Dio chi vuoi che sia una luce gigantesca che appare no? è Dio questa è la prima parte di questa lettera lunga dove succede questo allora analizziamo nelle tre o quattro slide successive c'è tutta l'analisi che io ho fatto che non vi leggerò ma vi dirò a voce che si fa prima sull'analisi grafologica delle lettere di Lucia allora questa analisi mostra una cosa fondamentale innanzitutto che questa scrittura è estremamente rigida di qualcuno che sta seguendo delle regole precise scrittore voi pensate che la gestione dello spazio grafico di Lucia da quando aveva vent'anni a quando è morta è stato sempre lo stesso cioè in tutte le lettere che lei ha scritto in una pagina c'era sempre lo stesso numero di righe qualcosa che nessuno di noi credo sia mai riuscito a ottenere ma non solo al di là del fatto che la stentatezza della scrittura chiaramente peggiora nel tempo perché Lucia diventa sempre più anziana e quindi scrive come sto cominciando a scrivere io cioè tremando perché è neurofisiologicamente che le cose funzionano così Lucia ha delle caratteristiche molto particolari cioè scrive sostanzialmente come un addotto l'addotto scrive staccato di lettera cioè tra una lettera e l'altra c'è un forte distacco ma quello non è importante perché la cosa importante al di là della rigidità del rapporto che Lucia ha con il suo passato o con il suo futuro guardate questi allunghi qua che fanno capire una cosa fondamentale che Lucia non è una che si fa mettere i piedi sulla testa è una che ha un carattere fortissimo no? Sì mi vengono in mente delle cose che non si devono dire cioè l'attività sessuale di Lucia però forse non è il caso di entrare in questo particolare scarsa comunque però c'è una cosa fondamentale Lucia non ha mai scritto in tutta la sua vita su una carta contenente le righe questo ha un significato da un punto di vista grafologico secondo me importante perché scrivere sulla riga vuol dire in qualche modo accettare di doverlo fare e quindi essere ligi ad una forma che ti hanno insegnato a scuola dove te non puoi scrivere sopra sotto il rigo in mezzo te devi scrivere proprio come ti hanno detto di fare Lucia questa cosa non ce l'ha non lo vuole fare non usa la carta con le righe l'unica volta che lo fa è quando scrive il terzo segreto di Fatima e non solo perché c'è un particolare Lucia non ha mai scritto con una penna di questo tipo scriveva con le matite scriveva con altre cose ma non con un pennino perché voi sapete io sono anzianotto quando sono andato all'elementari io avevo il pennino con l'inchiostro facevo un macello mi arrondavo con questo pennino che poi non si poteva cancellare chi ha la mia età se lo ricorda e soprattutto l'asse di pigiatura sul foglio è un asse critico perché la grafologia prevede che questo asse dipenda da diversi parametri ma sostanzialmente dalla voglia che te hai di imprimere su questo canale la tua voglia di non dire bugie più sei uno che non dice bugie più sei uno che pigia e se pigi tanto la carta dietro si sente col pollice che te hai pigiato tanto fino a romperla a volte che non è un buon parametro perché persone che pigiano tanto sul foglio sono persone che non possono fare i politici perché vuol dire che dicono quello che loro credono che sia la verità anche quando bisognerebbe stare zitti quindi è un parametro che viene indicato come una persona che si espone troppo per mancanza di requisiti tecnici e di capacità di conoscere la realtà che ti circonda qui lei ha qualche problemino per esempio con le t perché le t sono calcate all'inizio poi c'è un buco cioè la penna non arriva in fondo e riarriva in fondo nel trattino finale cioè praticamente qui cambia pressione nel mezzo cambia pressione questo ha un significato fondamentale sì Lucia scrive male non è in grado di reggere al parametro della pressione in qualche modo si trova mal partito con quello che è la realtà della verità che lei sta scrivendo in più alcune lettere questo lo dicevano anche alcuni grafologi che hanno prima di noi analizzato questa cosa alcune lettere della lettera sono sembrano state scritte da un'altra mano in realtà ciò non è possibile è possibile scrivere alcune lettere in modo differente ogni tanto ma questo rappresenterebbe comunque una specie di disagio psichico del soggetto che ha fatto dire ai grafologi che sono arrivati prima di noi che queste sono lettere apocrife invece fa dire a me che Lucia è apocrifa di se stessa cioè ha scritto la lettera sotto dettatura e quindi lei in alcuni momenti non credeva assolutamente in quello che stava scrivendo io non dico altro anche perché non sono un grafologo me ne intendo pochino però quello che a quel tempo consultando anche chi veramente si interessa di queste cose mi ha detto che forse la mia interpretazione poteva essere quella giusta ora vi salto quello che voi potete leggere e cominciamo a dire ma allora è evidente che nel terzo segreto di Fatima tutto quello che il Vaticano ci ha somministrato forse non è vero ma perché ciò accade perché il Vaticano non vuole dire quello che sta succedendo perché il Vaticano come vedremo poi in altri casi non vuole avallare la Beata Vergine e scoprite che non vuole avallare le presenze della Beata Vergine quando questa dà dei messaggi se si sta zitta va benissimo ma se parla al Vaticano gli girano le palle questa è la realtà storica non è che qui siamo a Zeitung allora Zeitung è vicino al Cairo a pochissimi chilometri dal Cairo questa è una chiesa copta guardate com'è fatta perché è importante capire dall'alto questa chiesa com'è fatta perché a un certo punto il 2 aprile del 1968 compare una figura che è quella lassù in alto che si fa un giretto per tutta la chiesa e sono circa le 8.30 di sera ci sono due meccanici questa è un'altra foto della Beata Vergine Maria guardate questa cosa qui compare sempre anche nelle iconografie di altre apparizioni ovviamente c'è la mai sufficientemente le data colomba della pace che però scopriremo non è così va bene guardate questa fotografia poi la analizzeremo col computer e vediamo che c'è qualche cosa che non torna in quella sera ci sono degli operai uno che è questo Farouk Mohamed Atva che è uno che aggiusta le automobili sostanzialmente c'è l'ufficina sta per chiudere il negozio quando alcune donne cominciano a strillare perché vedono lassù questa cosa e questo disgraziato che chiamerà i pompieri perché crede che ci sia una ragazza che si vuole suicidare buttandosi dal tetto della chiesa e non ha capito che quella poi diventerà la beata vergine Maria di Zeytun punta il dito sulla figura il dito è incancrenito il giorno dopo Farouk sarebbe dovuto andare in ospedale perché gliela avrebbero dovuto tagliare e lì accade il primo miracolo il dito gli guarisce che culo però c'è qualcosa che non va le apparizioni della Madonna a Zeytun continuano per circa sei mesi a volte la Madonna sta lì sei sette ore tutti possono vedere e mano a mano che il fenomeno si riproduce più gente va a vedere questa cosa è sempre la stessa tecnologia di Fatima Far audience e poi alla fine è un po' come quello che è successo a Sanremo l'ultima serata ci doveva essere Zelensky è uguale non cambia nulla l'idea è quella di preparare il popolo a un grande evento è una roba pubblicitaria allora in realtà che cosa sta succedendo sta succedendo qualcosa di molto strano vedete questa è un'altra fotografia voi notate subito che c'è più spot luminosi perché se questa fotografia è la fotografia della Beata Vergine Maria che è luminosa di suo ed è questa fotografia che illumina tutto il resto questa cupola deve essere illuminata fino a qui perché di dietro la luce non ci deve essere allora vuol dire che ci sono più punti più spot luminosi che illuminano la zona inoltre non è così non è che compare la Beata Vergine e basta prima compaiono dei globi luminosi che girano attorno poi compaiono delle cose che vengono chiamate identificate come degli uccelli che volano ma non volano vanno in giro come una giostra finta senza muovere le ali poi a un certo punto una grande esplosione pum e compare la Beata Vergine qualche volta compare con il bambino Gesù qualche volta con San Giuseppe e tutta una serie di a volte compaiono delle sfere da questi buchi qua escono dai vetri sfere che fumano e o chiaramente la gente pensa che sia incenso a un certo punto di questa fania e tutta la gente era lì che guardava ma tantissima gente si parla di 200 mila persone di più forse le ultime apparizioni guardate qui questa è un'altra della Madonna che si fa un giretto ma sembrava tutto molto statico cioè come un film che si ripete tutte le volte alla fine c'è un signore che si chiama Vajich Riz Matta che è un fotografo e il fotografo si trova una di queste sere a fare queste fotografie e riesce ad aprire la macchina fotografica due volte e a fare almeno un paio di scatti lì ti rendi conto di una cosa a cui la gente di solito non pensa nessuno si poteva muovere delle centinaia di migliaia di persone erano tutte all'interno calcate così pigiate una dentro l'altra e nessuno poteva alzare un braccio perché se alzavi un braccio ti venivano i dolori della madonna il povero certo il povero Vajich riesce a fare un paio di fotografie che poi analizzeremo ma le altre persone quella sera sono state ricoverate in ospedale alcune con traumi con crampi della madonna altri come se fossero malati terminali la cronaca dice come se avessero preso delle radiazioni la cronaca dice che molti non si sono presentati in ospedale per vari motivi quindi molta più gente di quanto non si pensi ha visto ha capito che in realtà durante le apparizioni della beata vergine nessuno aveva la capacità di potersi muovere questa è una cosa molto strana infatti vedete come si dice il fotografo si rese conto dopo aver scattato la foto che il suo braccio era seriamente compromesso con dolori lancinanti ma non fu il solo a sentirsi male e qui c'è la descrizione di tutto quello che successe andiamo a vedere un pochino più da vicino come facciamo noi vediamo cosa dice il computer questa è una foto questa foto la potremo analizzare ma potremo vedere subito una cosa fondamentale guardate la croce non vi sembra che è un pochino piegata cioè è sì è un po' stata distorta come se ci fosse una lente fai conto gravitazionale ma dico una lente in qualche modo tipo occhio di bue che ha distorto l'immagine ci sono punti luminosi vedete diversi la beata vergine Maria illumina se stessa ma in un modo molto strano questo è il filtro di emboss si chiama così il filtro di emboss serve per vedere la profondità delle immagini mentre tutto quello che c'è dietro ha una profondità esiste una terza dimensione la madonna è piatta non porta neanche reggiseno non gli serve è totalmente piatta quello che si vede in alto è che la colomba è statica è ferma non si muove ma allora questo che cavolo è questo è un disegnino è una striscia di plastica non è sicuramente la beata vergine Maria su questo non c'è ombra di dubbio andiamola a vedere più a fondo e guardate in questa immagine non so se potete notarlo qui ma lì si nota bene ci sono dei canali verticali neri che in qualche modo saltano agli occhi ora ve li faccio vedere meglio guarda che sono uno è questo qua uno è questo un altro è questo ce n'è un altro qui nascosto guardate qui si vedono molto meglio vedi questo questo quest'altro cosa sono questi canali da dove vengono vengono dall'alto ma che strano allora se vengono dall'alto ci ricorda forse il libro intervento extraterrestre in Fatima dove c'era qualcosa che irraggiava e la beata vergine Maria era all'interno di questo cono beh sembra proprio che siamo allo stesso livello e poi guardate l'iconografia mariana è identica se non molto simile a questa fotografia bidimensionale usata a Zeytun ma che strano eh sì analizziamo anche la nuvola perché la Madonna viene con la nuvola allora a Zeytun c'è la nuvola guardate questa è la fotografia e con un altro filtro abbiamo cercato di differenziare il più possibile questa parte che ci sembra piatta per vedere se le tonalità di grigio sono tutte veramente uguali oppure no vedete qui c'è sempre questa cosa tonda eh bisogna capire che le cose non stanno così guardate qui si vedono molto meglio i canali che vengono dall'alto vedete sì però scusate ma chiodo nel muro qui è tutto buio come mai qui no? come mai c'è questa zona qui che ha un certo tipo di colore e come mai questa zona qui se voi guardate è fatta di cose che sembrano un po' circolari eh ve le faccio vedere meglio le ho un po' dipinte qua vedete come se dietro ci fosse qualcosa di rotondo dietro che sta lì e che ha una temperatura lì e che è un elemento diversa da quella dell'ambiente per cui la tonalità di grigio che ne viene fuori dall'analisi della foto è una tonalità diversa ci metti i colori variabili sopra e vedi che c'è qualche cosa che non torna e infatti ora che io ho fatto vedere queste cose se rianalizzate la foto le potete vedere anche voi vedete c'è una cosa tonda qui circolare di cui noi vediamo solo la parte di qua è la nuvola della Madonna la nuvola della Madonna in realtà non è una scoperta del 1917 a Fatima o a Zeytun nel 1900 ma è qualcosa che deriva dalla nostra storia negli antichi gli antichi non c'avevano una macchina fotografica c'avevano i quadri ecco vedete il battesimo di Gesù questo è Aert de Gelder 1645 1627 il battesimo di Cristo Cristo è qui ci sono i raggi che vengono dall'alto e lassù c'è una cosa tonda con delle lucine nel mezzo e te dici ma guarda qui nel 1600 che cosa è come gli è venuto in mente di fare una cosa così ah beh questa è la Madonna col bambino e San Giovannino qui siamo nel 1441 1493 questo è il quadro ma voi dovete capire che questo quadro ha qualcosa di strano e quel qualcosa di strano è questo coso qui che non so che cos'è e questo signore che sta guardando questo coso qui questo coso qui è questo e questo signore vedete come è fatto sta così guardando in alto questo coso non è che è un caso questo coso e che cos'è quella roba lì e sono nuvole fatte da angeli questo lo dice il CICAP ma perché ridete non dovete ridere cose serie oppure guardate questa altra che è l'esaltazione dell'Eucarestia qui siamo a Ventura Salimbeni 1568 1513 cioè che cos'è questo coso qua Gesù è il subabbo Gesù è il subabbo guardiamolo da vicino sembra proprio un satellite artificiale ce n'è uno uguale che a quei tempi usava c'è anche la telecamerina che usciva dal satellite per guardare per terra però è strana questa cosa questo è un quadro che ho visto personalmente in Toscana oppure c'è quest'altro l'annunciazione questo è ancora Carlo Crivelli dove c'è la solita nuvola fatta di di angeli che si tengono per la coda e girano che lancia un segnale informativo a Madonna mettendola incinta guardiamo alcuni momenti più vicini questi sono gli angeli da cui viene fuori questa roba e qui ovviamente ancora un ingrandimento e qui la Madonna che ora sa quello che sarà il suo futuro beh poi ci sono ovviamente la crocifissione di Visoci dei Cani qui siamo in Jugoslavia in Kosovo dove ci sono le cosiddette mandorle mistiche che sono questi questi oggetti qua guardatele come sono fatti da vicino le mandorle mistiche hanno anche il pilota dentro poverini va bene così allora capite bene che c'è ancora qualcosa che non va e quindi e qui viene fuori la pubblicazione di Freixedo Salvador Freixedo che tira fuori questo libro Defendamonos de los dioses difendiamoci dagli dei sostanzialmente lui mette in relazione i fenomeni di apparizione religiosa con i dischi volanti con la la storia ebraica e la parte massonica dell'ebraismo e con questi signori qui che sono gli alieni sostanzialmente voi aprite questo libro che ovviamente non è mai stato tradotto in italiano per le ovvie ragioni e la prima frase è scritta questo se voi vedete un disco volante scappate questa è la prima cosa lui è Freixedo è un ex gesuita spretato ci dobbiamo chiedere perché Freixedo poi scriverà questa cosa però è evidente che c'è qualche cosa in tutta questa storia che non ha convinto nemmeno i ferventi cattolici a che cosa serve la religione la religione ha un ruolo preciso fondamentale importante la religione è uno dei primi processi storici di globalizzazione se ci fossero gli alieni per caso dietro gli eventi mariani l'alieno cosa vorrebbe vorrebbe che tutti quanti attraverso l'impiantazione di religioni monoteiste sul nostro pianeta la pensassero tutti nello stesso modo solo dopo quando tutti la pensano nello stesso modo può arrivare l'alieno e dire sono qui sono l'angelo del signore l'angelo tecnologico il signore starà più in alto io sono il suo mandato qui per ristabilire la bontà dell'umanità per una seconda grazia perdono dell'umanità però questo lo può fare solo se tutti la pensano nello stesso modo perché se metà pianeta la pensa in un modo e l'altra metà la pensa in un altro modo arrivano gli alieni e loro si trovano con metà mondo contro quindi prima con un processo di globalizzazione si rende tutti uguali con la testa poi si arriva quello che una volta in questo periodo storico si tentava di fare con le apparizioni mariane sempre che dietro ci sia il fenomeno alienologico è proprio questo oggi si usa un'altra tecnica oggi si usa l'idea che tutti debbono comunque essere stupidi e quindi chi governa che è un burattino in mano dell'alieno secondo me sta tentando di portare avanti questa agenda che è un'agenda aliena in un altro modo per esempio manovrando i soldi il popolo deve essere senza soldi perché solamente così lui non sarà più libero allora i soldi si tolgono diventano finti e dopodiché te li do ti faccio mangiare solo se ti sei vaccinato per esempio oppure se tu hai fatto comunque quello che voglio io perché se no no ecco un processo di globalizzazione vedete ci sono anche i soli rotanti dietro queste fanie a Međugorje c'era il sole rotante guardate che cosa ho scritto io ho scritto in realtà ho messo in evidenza in questo testo in cui si parlava del Vimana il V-man è quella in sanscrito quel luogo quella stanza piena di esseri umani con l'uomo dentro che vola Vimana vuol dire questo Vimani Kashastra vuol dire trattato sui Vimana i Vimana sono macchine volanti la storia risale a dai 8 ai 7 ai 9000 anni prima di Cristo quando un pandit che si chiamava Subaraya Shastri per la prima volta trasforma questo se stesso che è un uomo libro in libro scritto in sanscrito perché prima non si usava a scrivere i libri prima c'erano delle persone che mantenevano il ricordo delle cose allora ci sono 32 segreti che fanno funzionare il Vimana che è la macchina volante e io vi voglio leggere solamente il 14esimo segreto allora attraendo i 13 tipi delle forze Karaka che non so cosa vuol dire ovviamente menzionati nel Karaka Parakarana che è il trattato sui Karaka applicando aria sovraccarica di neve e proiettandola attraverso il tubo convettore vedete come scrivevano d'aria verso gli specchi i Pashpin Pingiula che sono nomi loro nel lato anteriore destro del Vimana pensate che questo trattato è stato scritto 9000 anni fa ma si rifà a prima di 13500 anni fa e focalizzandoli sopra il raggio Suranga che noi non sappiamo cosa sia apparirà a chi guarda il Vimana una donzella celeste coperta di fiori e di gioielli la prima apparizione mariana della storia fatta 9000 anni prima di Cristo ad opera di coloro che usavano le macchine volanti è incredibile questa cosa insomma ci fa pensare Veronica Loiken Veronica Loiken 12 luglio 1923 agosto 1995 quando morirà è una casalinga che abita a Bayside Bayside è un quartiere di New York lei vede la Madonna comincia ad avere locuzioni con la Beata Vergine Maria il Vescovo di Brooklyn dirà che assolutamente questa visione non è vera non è consona con la Chiesa Cattolica perché la Madonna parla dice delle cose e quando la Madonna parla sostanzialmente poi ha sempre nella storia volenti o non volenti sputtanato la Chiesa quindi la Chiesa dice no notate come è la posizione ve lo faccio vedere perché poi ci tornerà utile di Veronica quando guarda la Beata Vergine in alto gli occhi sono in alto la bocca è aperta così fateci caso allora il problema di Veronica è che lei chiede alla Madonna delle cose e una delle cose che vengono chieste è che cosa sono i dischi volanti e gli alieni porca puttana ma perché Veronica va a fare una domanda del genere alla Madonna non vi viene il sospetto che Veronica è nel problema dell'adduzione e sapete cosa dice la Madonna la Madonna dice sono manifestazioni del demonio quando li vedi girati dall'altra parte capite che questi contesti queste locuzioni non potevano essere approvate dalla Chiesa perché la Chiesa come vedremo sia sul problema ufologico dove ci caliamo un velo pietoso ma sul problema delle apparizioni mariane dove dietro ci potrebbe essere il problema ufologico non si può esporre non si può sputtanare e questo è la specie di megagalattico gruppo di mattoni che producono la cattedrale di Meggiugori Meggiugori c'era solo questo in mezzo ai monti non c'è altro cosa accade a Meggiugori e forse il più importante avvenimento mariano Fania Mariana degli ultimi 30 anni le apparizioni di Meggiugori un giorno accadono il 24 giugno del 1981 ci sono dei ragazzi che stanno camminando su una collinetta vicino a a questo posto e a un certo punto questi ragazzi di cui qui ci sono tutti i nomi sono richiamati da qualcosa e questo qualcosa si mostra loro come la beata vergine Maria cosa fanno questi ragazzi girano i tacchi e scappano perché hanno paura di questa cosa nel frattempo raccontano a casa ognuno nel villaggio e l'ha coduto i genitori dicono a te sei scemo ti chiudo in casa non ti faccio uscire alcuni li volevano chiudere con a serragliati a chiave per non farli uscire perché il giorno dopo la Madonna gli ha detto tornate perché comincia l'afania mariana come al solito questi ragazzi alcuni di questi due in particolare non riescono più a tornare ma invece ci torna la sorella di una di queste ragazze e un altro ragazzo Jakov Kolo che aveva dieci anni che era il ragazzo più piccolo più piccolo di tutti questi sei personaggi si precipitano il pomeriggio del giorno dopo sul monte dove hanno visto dove la Madonna li ha chiamati in uno stato di trance questi non capiscono più nulla mollano quello che succede e mezzo paese gli corre dietro perché nel frattempo la storia si era in qualche modo un po' risaputa e qui c'è la vera e propria affania gli altri ragazzi che rimangono chiusi in casa e che non possono uscire torneranno le volte successive a vedere anche loro sta Madonna ma non la vedono più cioè la Madonna ha già preso l'imprinting delle cortecce cerebrali con i quali trasmettere i propri segnali e quest'altri non sono nel computer della Madonna ovviamente quello che succede è che le apparizioni di Međugorje e qui nel secondo giorno viene detto quello che insomma avevo un pochino raccontato quindi apparirà Gesù qualche volta apparirà la Madonna apparirà San Giuseppe per anni poi a un certo punto le fanie si spostano in un locale della chiesa attuale dove tutti mi sembra di ricordare tutti i mercoledì ci sono queste fanie c'erano queste fanie mariane guardate questi sono i ragazzi guardate Jakov Kolk è il più piccolino di tutti sono sei sì sì sono sei Vicka mi sembra che sia questa che forse la più importante è quella che ha dato più dichiarazioni di tutte alcune si sono sposate nel frattempo e così via sono quasi tutte femmine e il bambino piccolo che sessualmente ancora non si è proprio formato guardate la posizione degli occhi guardate la posizione della bocca aperta perché su questo ci dobbiamo tornare perché? perché nel frattempo mentre tutto si sta chiarendo due signori che sono Gagliardi e Marnielli sono due neurofisiologi cominciano a studiare molto cattolici io uno di due l'ho conosciuto sono stato a casa sua per fare le indagini mettono gli elettrodi dell'elettroencefalogramma sulla testa di Vicka e i laringofoni al collo di questi veggenti perché quando appare la beata Vergine Maria nel giro di un ventesimo di secondo tutti e sei cadono in ginocchio e cominciano ad assumere quella posizione e cominciano a parlare piano talmente piano che con i laringofoni loro pensavano i ricercatori di riuscire a capire che cavolo se stasera di con la Madonna nell'istante in cui accade questo la Madonna stacca subito il contatto e dice a una delle veggenti di non farlo più perché lei non vuole essere studiata sostanzialmente questo lo aggiungo io cioè la Madonna ancora una volta non ha voglia di parlare con te ha voglia di dirti delle cose ma se te gli chiedi ma sei veramente la Madonna sei finito perché la Madonna non ti compare più te non sei adatto questo è quello che succede c'è un altro aspetto fondamentale durante la visione la midriasi della pupilla di tutti e sei i veggenti è altissima questo fa pensare a Gagliardi che ci potrebbe essere un tumore al mesencefalo di questi ragazzi perché è come se avessero tagliato attraverso il nervo ottico i contatti con il mesencefalo tumore che non c'è ma questo dimostra una cosa in realtà che questi ragazzi sono stati momentaneamente decerebrati cioè si è sganciato il contatto con la corteccia cerebrale soprattutto quella che dà origine alla visione fuori dentro c'è un altro aspetto della questione cerco di non dimenticarmi le cose più importanti e fin qui ci siamo ecco guardate ancora l'aspetto dell'ebetismo che hanno questi da proprio decerebrati e non è non è il solo come avete visto anche negli altri casi guardate per esempio Vincenzo Fullone guardate quest'altro caso di Manduria guardate scopriremo ora fra un attimo una cosa interessante a Garabandal qui siamo in Spagna qualche tempo prima degli avvistamenti di Međugorje notate la posizione e notate che mentre questo sta guardando in una direzione questo sta guardando in un'altra direzione quindi gli investigatori hanno creduto che questi soggetti stessero a guardare la Madonna in realtà se te nello stato estatico li prendi loro non si accorgono di niente e li giri loro guardano sempre in alto ma non stanno guardando la Madonna perché la Madonna non è fuori è dentro di sé è la tua corteccia cerebrale che ti sta in qualche modo proponendo quel tipo di visione sono decerebrati chi è che ti vuole decerebrare ah il problema del sole rotante come vedrete il sole rotante non ruota affatto guardiamo questo piccolo spezzoncino e ci rendiamo conto che in realtà quello che sta succedendo è che nessuno vede niente ma credono di vedere il sole che pulsa che ruota in realtà quello che succede è che c'è un palo luminoso che è questo che in qualche modo viene inquadrato eccolo lì viene inquadrato dalla telecamera questo palo luminoso che fa credere alla gente che il sole pulsi in realtà è un'altra cosa vedete la gente perché urla perché quello che ha la telecamera in mano ci sono voluti otto mesi per capire come funzionava sta cosa il lo tempore comincia a gridare dice il sole che pulsa il sole che pulsa da tutti gli altri senza vedere una mazza cominciano a urlare come dei deficienti no? vaccinati vaccinati uguale questa cosa qui questo palo qui luminoso che di solito è di colore verde o rosso dipende dal ccd della telecamera è un punto di saturazione di questo aggeggio che ha la telecamera che sta assorbendo troppa luce e risponde meccanicamente sempre con questa cosa qua analogamente vedete ci sono questo è il sole l'esperimento è stato fatto da altri ognuno di voi lo può fare anche con una telecamera di quelle che una volta si usavano perché i telefonini oggi non lo fanno più questo lavoro qui ed ecco che compare questo qualcuno ha pensato che questa è una foto molto nota e ora potete capire di che cosa in realtà si tratta cioè non è la piramide di Visosci dei cani scusa del Kosovo Jugoslava che emette un raggio luminoso che va verso il cielo ma è il sole che sta spaccando le palle al ccd della telecamera così anche questo l'abbiamo chiarito certo il miracolo del sole pulsante allora andiamo a vedere il sole pulsante il sole sta per pulsare vedete la gente però ecco ecco la ziavina vede di nuovo però questo fenomeno si produce solo all'interno della telecamera chi è fuori a occhio nudo non vede niente ma viene influenzato da quelli che dice guarda guarda nella telecamera guarda e lì vedi è il miracolo è il miracolo allora questo miracolo accade in questo modo te prendi la telecamera e la metti con l'otturatore che è un otturatore elettronico perché nella telecamera non c'è l'otturatore ma c'è il solito ccd che assorbe luce e lui cosa fa con l'automatico se tu lo metti in troppa luce lui si chiude per non far passare più luce allora te prendi la telecamera la metti sull'automatico e inquadri il sole passa troppa luce mi chiudo porca puttana non passo più nessuna luce mi riapro porca puttana c'è troppo sole mi richiudo tum 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 con la frequenza che è una frequenza seno di omega t più fi legata alla struttura della telecamera stessa porca puttana manco questo è un miracolo crozia crozia avete già visto Vincenzo Fullone che era quel ragazzo di prima con Anna Biasi che è la seconda veggente guardate sempre con la stessa faccia da decerebrato quello che succede non comincia il 25 maggio del 1986 1887 ma comincia un giorno prima Vincenzo Fullone che se uno si studia la sua storia scopre che quando era un bambino più piccolo aveva già visto la beata vergine Maria e il prete del paese gli aveva dato un calcio nel culo gli aveva detto non ti fa più vedere dicendo queste stronzate perché questo c'è scritto nella sua bibliografia quindi era un soggetto particolarmente adatto per la Madonna per comparire il giorno prima con un suo amico vanno in una chiesetta io mi sono stabilito in quel paese e sono stato 3-4 giorni con una Anna Maria Turi che era una giornalista che si interessava di fenomeni paranormali ci siamo posti lì e abbiamo studiato il fenomeno da vicino in quel contesto la chiesetta sarà stata grande come questo palco non di più ormai aperta ma desconsacrata con una statua della Madonna che i fedeli illo tempore avevano regalato alla chiesetta Vincenzo e il suo amico vedono che la statua piange e scappano perché hanno paura allora sulle statue che piangono come vi ho detto in India piange la statua dell'Ioshimia a Grosseto piangeva un'altra madonnina che alcuni fedeli avevano nel cortile di casa quando dopo diversi mesi che il fenomeno si ripeteva hanno analizzato la lacrima la usla ha analizzato la lacrima della Madonna ha scoperto che la Madonna aveva un DNA di maschio e lì si sono incazzati tutti Grosseto perché gli piaceva che c'era la Madonna che invece purtroppo succede quando fai le analisi il 25 maggio cioè il giorno dopo c'è la messa in questa chiesetta e Vincenzo vede la Madonna che si muove comincia a urlare come un disperato tutti quanti cosa succede cosa succede la Madonna la Madonna la Madonna e da lì si comincia a capire che Vincenzo ha le visioni della Madonna il giorno dopo Vincenzo va a ritrovare la statua della Madonna che ripiange nata volta ma la Madonna in questo contesto viene accompagnato da Anna che era la ragazza che era lì vicino e la Madonna gli parla e gli dice ho sete ho sete ho sete mi devi dissetare lui corre fuori prende con le mani dall'acqua che usciva dalla fontanella di vicino e la porta alla Madonna e la Madonna si abbeverà ora questa è una cosa che veramente neanche sui libri di Topolino c'è scritta allora la fontana davanti alla chiesetta viene dichiarata dal prete di allora una fontana sacra e ci sono i miracoli tutti a be stacqua la USL fa le indagini della fontana che siccome stava in un terreno vicino al cimitero non vi dico che era inquinata era di più e quindi sono costretti a chiudere la fontana se no tutti quelli del paese andavano a be e morivano tutti perché dentro c'era dallo scorbuto al botulinum c'era di tutto il cimitero del paese era in disuso e era sotto venivano tolte le vecchie tombe veniva buttato tutto all'aria e siccome eravamo a Crozia in provincia di Cosenza nell'aprire le bare ogni bara c'aveva almeno due morti dentro succede a Cosenza ecco questo per dire però il capo dell'andrangheta locale che si chiamava Don Ciccio aveva quando saputo che io sono andato lì a fare le indagini aveva dato il permesso al barbiere del paese di accompagnarmi a fare le indagini e mi aveva messo a disposizione uno dei suoi ingegneri fidati con tutte le mappe della zona perché perché si scopre che Don Ciccio aveva tutti i terreni attorno alla chiesa e voleva fare dell'apparizione della Madonna una speculazione di Lizia pensate cosa c'è dietro tutte queste cose che c'è dietro